Uno striscione da affiggere sulla facciata del Palazzo Regionale per scuotere le istituzioni sul caso dei Marò Pugliesi. L'appello arriva dal gruppo di Forza Italia che ha consegnato al Presidente in trona il cartellone. Chiara la frase contenuta, riportiamoli a casa. Un sentimento comune, incalzano gli esponenti dell'opposizione. Da due anni la Torre e Girone sono trattenuti legalmente senza uno straccio di accusa e la permanenza si allunga sempre di più dopo l'ennesimo rinvio della Corte Suprema Indiana di queste ore. Se questo serve a dare il segno di come per noi, per l'Italia, i diritti delle dignità umane sono fondamentali, benvenga anche una candidatura europea, perché noi dobbiamo levare forte un segnale. Quelli che sono i diritti fondamentali delle persone non possono essere capestati da nessuno, né in Italia né in India. Secondo il vice capogruppo congedo, i militari hanno l'unica colpa di aver compiuto il proprio dovere nell'ambito della missione antipirateria sulla nave dove erano imbarcati, a tutti gli effetti, territorio italiano. Per Marmo, vicepresidente del Consiglio, la vicenda è un'offesa all'Italia e ancor più le polemiche che l'accompagnano.